Sale a 102.132.373 euro il totale dei contributi erogati fino ad oggi per la ricostruzione privata post-sisma del Comune di Teramo. Una somma pari al 42,19% del totale concesso all'interno del cratero abruzzese, che è ad oggi di 242.069.434 euro. E' quanto emerge dal report mensile dell'ufficio speciale guidato dal direttore Vincenzo Rivera, che parla per Teramo città di un totale di stanze lavorate al 31 maggio e di 420 su un totale di 560 presentate, pari al 19,32% delle stanze dell'intero cratero abruzzese. La ricostruzione privata procede speditamente con l'ordinanza 100 e il cantiere normativo costruito dal commissario Legnini, con i sindaci, con le regioni. I numeri danno ragione assolutamente a questa inversione di tendenza. Devo ringraziare veramente tutti perché questa attività ha consentito di responsabilizzare tutti gli attori della ricostruzione, quindi ovviamente gli uffici pubblici, i professionisti, le imprese, una semplificazione vera che sta dando i suoi frutti. Importante il lavoro ovviamente dell'USR, del direttore Rivera che ringrazio, ma anche degli uffici comunali, in particolare dell'ufficio comunale di Teramo, che praticamente non ha arretrato e questo ha consentito a Teramo di diventare il traino del cratere abruzzese. Ad oggi dunque a Teramo è stato definito il 75% delle pratiche presentate contro il 67,74% di tutto il cratere abruzzese, nello specifico per quanto riguarda i danni lievi su 428 domande presentate ne sono arrivate a conclusione 333, pari al 77,80%, con 239 decreti emessi per un totale di contributi concessi pari ad oltre 43 milioni di euro, con un'incidenza sul totale del cratere del 33,71%. Dobbiamo adesso cercare di superare anche le problematiche derivanti dal caro prezzi, che con l'ordinanza di Giovanni Legnini ha trovato una soluzione, quindi nessun rallentamento, procediamo in questa direzione, cercando di arrivare così ad ottobre con la prossima scadenza per la presentazione delle domande per la ricostruzione pesante, chiamiamola così, si possa arrivare già con una gran parte del lavoro superato.